Meno uno Domani il finale di tutto 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 No niente, Sekiro stasera può pupparmi la fava ragazzi Oggi si fanno cose serie, non quei giochini di merda lì Oggi cose serie Cazzo Dai c'è Frame, c'è Valen, un altro bellone E partiamo, su, su, dai Dai, dai Anzi si fottano, andiamo, basta Ho aspettato anche troppo No i altri bambini accettaroni, votarono per uscire. pensavo che non avessi tornare. poi... A.J. e io eravamo attaccati a Abel, uno dei ragazzi che Marlon aveva dato i tuoi. era con qualcuno che pensavo che non avessi mai vedere. Lily. stavamo quasi assicurati da walkers, quando inizialmente uno di loro mi ha parlato. il mio nome era James, un ex-Whisperer che non credeva in uccidere walkers. mi ha aiutato a tratare a Abel, ma senza reale medicina, non avessi. i ragazzi non avessi lontano 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 di Abel, e riuscivano uscire dentro. dopo che ho raccontato come potremmo la scuola contro i Raiders, eravamo a lasciare a riuscire, almeno fino alla città. mi ha deciso di aiutare a lui a ascoltare il piano. lui mi ha aperto. e ho accettato che avevo le sentimenti per lui. lui aveva le stelle. poi i Raiders finalmente arrivano. li riuscivano a ottenere le nostre porte, ma i ragazzi stavano a scoprire come planato. lui aveva la scoprire. C'è non l'annone, arpino, arca, ecco i belloni, sono arrivati i cazzo, arpa, 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 come stai talpino, talpino. Eeeh, anche Frame ha fatto la sub da Sam, ha portato il DPS, ma quanto sono belli cazzo, pronti ragazzi a rivedere il penultimo capitolo in attesa di domani, domani tutto finirà, me l'hanno regalata la sub. Gege, allora, Gege, io non c'ho più quella fortuna. Gege, io non c'ho più quella fortuna. Liquidino è bellissimo e voi non capite un cazzo. Sì, ma non durante questo gioco, ah, che ti vibi tantissimo, però, no. E' morto Michu, povero Michu. Minimo cento, esatto. Minimo cento, io ero così piccolo e Michu mi guardava. A persone diceva che era una dica a volte, ma è sempre bello con me. Ora è morto. Non mi chiede i 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 chiede. Grazie. AJ chiede i chiede i chiede i chiede i chiede i chiede. Cześć, czołowni. Czas na nas zbieramy Mitcha i powiemy dobra. Chodźcie z nim! Jesteś z powodu, że mimo! Willi! No, jest prawda! Onaliśmy plan... ... i nie jest... Chodźcie, Willi, nic nie jest w sprawie Tenth. Prziesz co się nie stało. Nie jestem wierze, to strasznie! To... ... robiło to bell... Tenth! Mi odpowiedziałam. Czucała z Abel, zobaczycie, czy nie mogli nie zauważyli gdzie tuli VII, Omar i Asim. Chciałem z nieco, wiedziałam, wiedzieć, wiedzieć, żebyś bylo rozmawiać. Ale... ... nie mogli... magari tu avrai più di lui che io Ma c'è Romeo al cioccolato, peh, peh. Allora, dobbiamo prendere questo. GG. Questo dovrebbe essere abbastanza forte per prenderlo. Questo. E questo. Voilà, è qui. Gli oggetti secondari li abbiamo presi. No, no, no. No, no, no. Mettilo via che lo vedono tutti. Ci sono i bambini, cazzo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Perchè cercate tutti i modi di disturbare le cazze in cazzo? Sei un pazzo furioso bellone Grazie Nolan TVB ma è un tempismo di merda Volevo distruggere qualcosa di bello Sì alla prossima tolgo gli alert però ragazzi Basta Si ascolta il gioco in silenzio Vi picchio eh Vi picchio Tu non sai cosa è che c'è là qui È un pazzo Una comunità contro l'altra Da Richemond a la costa L'arrivo dell'arrivo dell'arrivo Con alcuni di merda di merda che mi facciano sembrare come la merda di merda Noi bisogna la gente per l'arrivo Solti che facendo ciò che diciamo La nostra casa è sotto controllo, è una buona casa, builto per finire, faccio molto per proteggerlo, non lo capisci. E io faccio molto per ottenere i miei amici, quindi resta perdere il mio tempo. Ok. Poggio del front, la risposta a tutte le vostre domande. Pesante. No, è proprio Leviticus. Ho sperato di essere una cosa timidamente e moralistica per riuscire le altre città. Ma vabbè, quella cosa non va a farlo. Vuoi sapere dove sono i miei amici? O che ci sono i miei amici? O che ci sono i miei amici? Buon mi ricordare qualcosa come lì, come lì lilia. Now that is heavenly Oh shit That's a lot of blood Oh fuck This is not good He's gonna die, isn't he? We have medicine We can still patch him up I don't think so When you push me off that balcony Something must have burst inside of me No medicine can fix this Shit I never wanted things to end like this Everything It all got out of hand Now look at me I'm a fucking mess Will he turn No My whole life Everything I ever got I got with my own two hands And my will For my body To turn on me To take control I'll tell you where to find Lily Just promise You won't let me turn I'm begging you I'm begging you I'll put you out of your misery You have my word Okay Okay We have a boat We're docked a few miles west of here At an old fishing pier Your friends are on the boat You got what you wanted Please Don't let me become one of those things Please I don't want to hurt Not that Voglio lasciare guardare il mio occhio. Non bisogna guardare questo. Voglio. Sì. At least you can't hurt anyone anymore. Yeah. Come on. We have a boat to find. Sì. Va bene Frame, non ti preoccupare. Beh, deve distruggere il cervello perché non doveva farlo trasformare, quindi... O quello o niente. Sì. 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 Cosa io? Dove caccio era? Sì. Sì. Non lo trovo. Sono abbastanza sicuro Che ci sia un teschio Forse non è nei bordi Ma è al centro No Eccolo Ah no il ferro di cavallo Giusto Fatemi vedere un attimo Che non vorrei mancare oggetti Li vorrei trovare tutti Però li avevo visti tempo fa E adesso non me li ricordo Allora Season finale Episode 3 All collectibles Qua c'è solo il ferro No La lavagnetta No c'è un altro oggetto qui C'era anche la zampina di coniglio E agli ultimi due me li ricordo Perfetto Ok C'è anche la zampina di coniglio Qua Eccola la Jeje abbiamo la zampina Jeje E' morta E' morta Me l'hanno rubata Sono venuti di notte Me l'hanno tagliata Me l'hanno portata via C'è anche la zampina Basta 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 Ho visto che ha fatto un tono triste E' sicuramente un riferimento al ranch Di cui ancora non sappiamo una sega E di cui ancora non ci vogliono dire una sega Ma perché il ragazzino bianco mi ricorda troppo Gon E' proprio lui Arpino Per questo te lo ricorda Lo hai sgamato Ma perché Ha visto questa cosa prima? Nel momento Mi pibe 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 Ma che Mi pibe Mi pibe C'è una piccola apre a la cima di queste porte aperte. E.J. e io conosci come fare con queste. Non vedo un posto obvio per proteggere. Non sono i bambini? Bambini? Ma dove? Ora, che... non lo so. Ci sono alcuni suoni. Un'altra parte sull'interno, potrebbe essere più da dentro. Cosa, vedo Violet. Cosa, questo è davvero quello. Abbiamo trovato loro. Il interno ha abbastanza di cover. Se siamo attenti, possiamo andare in non detecco. Non c'è una buona cover a lungo l'esterno. Siamo necessitati un po' di distrazione. Walker! Eccolo lì il diversivo. Ahahahah. Ora abbiamo solo bisogno, cosa, un po' di walkers? Cosa difficile essere? Magari non così difficile come pensi. Potremmo usare i vaganti come detersivo. Dobbiamo usare qui prima che ci troviamo. Potremmo parlare con il plan, una volta che siamo sicuri. Allora, mi ha dato una achievement, quindi deduco di aver trovato tutto quello che c'era da esaminare. Quindi GG per noi ragazzi. GG per noi. Allora. Ma preferisco le scorte per lì, eh? Sì, abbiamo chiesto dei walkers per salvare lì e Abel, magari potremmo conoscere loro a farlo di nuovo. Se ci portiamo un gruppo abbastanza grande di loro all'interno, potremmo riuscire senza essere visto. Beh, sì, sì! Vediamo che quanto riguarda gli altri servizi. E come dopo che ci siamo arrivati? Cioè, i raideri solo vanno attaccare a noi di nuovo, cosa allora? Scuola, veloce! Un raider? Sì, deve essere. Tu tutti resti qui. Vedo se si conoscono qualcosa che potrebbe aiutare noi. Quanti di voi sono qui? Quanti di chi? Quanti di chi? Io non sto parlando, rispondi la domanda. 8. Ci sono 8. Clem, stop! Hey, Minnie. Quanti di chi? Quanti di chi? Quanti di chi? Quanti di chi? Quanti? Quanti di chi? 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 Sì, però non c'è tanta gente che è morta, non avrebbe mai avuto la gente, ha matato a Brody. Cosa? Minerva? Onde è Sophie? Si... Si è morto, protegendo la Delta. Un herò. Un herò? Dio, non lo so! Sì! Sì! Cazzo, c'è proprio Lily, guardano! Sì, mamma. Sì, mamma. Cosa? Sì. due giorni. Then it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. The only way you're gonna save your people is to let us take them. I'm serious. Don't fight this. It's not too late, Minnie. You could come back to the school with us. No. No, I couldn't. It doesn't change anything. We still have to get onto that boat. Ciao, bye, l-am. Start getting things ready. Get everyone caught up on the plan. Everyone except 10. I warned you. Even if I told you. AJ and I will go find James. Be safe. Guardate quel bellone di Nolan, quanto è bello, cazzo. Prendetelo, tiratelo per la barba, strapazzatelo. Ah, yeah. Ow. Ow. Gunshot wound. It feels like someone pinched me from inside. Here, let's rest a second. Minchia, son due settimane, però, eh. Ancora gli fa così male? Clem, tira gli un puño. T enough. No. Yeah. That's good, eh? No. Non ciò che credo. Come... Penso... Penso che sono freddo anche a Tim. Rai fuori da coppia quando Lily attaccò la scuola era davvero stupido. Cazzo se l'è stato! Bravo, vedi che lo sai! Non è stupido sto bambino, eh! Eh... Trouble like bad? So they did bad things? Why? Ok, um, sometimes they do them because bad things happen to them. I knew a doctor once, back when you were just a baby. He called it trauma. You have some too, you know? The thing where people can't walk up behind you? I don't like my trauma. I want to get it off of me. How do I get rid of it? I don't even like the way the word sounds. He's fucking morse. Even if he does dumb things, in fact, I think he's my first real friend. Eh, e io? I thought I was your first real friend. Pesante! Ha messo da parte Clementina. Pesante, ancora di più. Oh, e che cazzo? La gatta in calore mette il culo su ogni cosa. Ma vai a castrarla, cosa stai facendo? Pazzo, la fai soffrire così. Drogato. Si può castrare una femmina. Ovvio che si può castrare. Che domande del cazzo, Wolfino? E' la stessa cosa, Wolfino. Non mi fa le paranoia adesso, eh. Eccolo. Io buonare. Ti sazri. ''Yi os Raios fanno questaixa?'' Si paremmo che... Erginelle che... Erginelle che... ...Egitt cheese shop... ...ginalle che le persone dalla tua scuola. C'è perché tu è qui? Eche persone che tu vedenti, c'erginelle che le salvare. Ma per fare questo, vi necessitiamo di aiutare per raias. I could maybe help, but my mask is still in the camp inside my bag I can't pass through a herd without it Ok, then let's go get it Please, I just I just ask that you don't kill them the walkers if you distract them I can sneak over and find my mask Distract all of them? Please Please I'll try Oh 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 ma perché c'è un muro invisibile sull'albero cristo fanculo i muri visibili di merda non c'è troppo non c'è troppo c'è un carto le pressione le ruote No, no, no. Grazie per aiutarti a me riuscire a riuscire. Ora, come le walkersi salvano i nostri amici? Sono stati presi a un pozzo non troppo da qui. Non possiamo andare a portare senza cover, non senza i ragazzi che ci spettano. Vuoi usare walkers per scendere, per scendere a portare il loro spettacolo? Questo è vero. È la nostra scuola. Ho qualcosa che ho bisogno di vedere, così che puoi capire quello che ti chiede. James, ci siamo ancora bisogno di suo aiuto, certo? Sì, ci siamo. Va bene. È un wolfino che è un culone. È un wolfino il culone. È sicuro. È un po' di più. 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 Questo era un riferimento alla prima stagione Per chi se la fosse persa Perché Clementina da piccolina aveva fatto la stessa cosa Incantevoli e rilassanti Ma tu dici Clementina E qui c'è l'ultimo collezionabile Eccolo qua E barba aperto Accimilmente sbloccato Cacciatricio Abbiamo preso tutto Perfetto Possiamo stare tranquilli fino alla fine del capitolo Adesso Collecting Collecting C'è l'ultimo collezionabile C'è l'ultimo collezionale C'è l'ultimo collezionale C'è l'ultimo collezionale Non ho capito C'è l'ultimo collezionale C'è un lucio C'è un lucio? So few of us die anymore We turn Not dead, not alive God, I hope that's not true That sounds like hell To you maybe I think it seems Peaceful Do you really think there's people inside of monsters? Somewhere Yes Think about it this way As someone you cared about Turned Clem's friend Lee Eh appunto non l'ha fatto quindi Sorry Maybe this wasn't the best way to explain Didn't mean to bring up difficult memories I lived among walkers for years Still do in a way When they're alone They're harmless Innocent If you want my help I need you to try and walk with them Then tell me if you really believe they're just Monsters They are They're not people Or friends They're not people Or friends They'll be safe I promise This isn't smart It's too dangerous If it gets bad in there I'll need you to save me Okay Can you do that? I Yes I'll always protect you Che carino cazzo The first rule Is never go alone I'm not leaving you I'll be right back Find the exit I will And say fuck off to fear I will I promise Don't say fuck off to fear The mask will disguise your scent But be gentle And be quiet Touch the wind chime You'll see Oh no, first person Mi tocca Mi tocca Mi tocca Mi tocca anche quella Mi tocca Che idea del cazzo Clem Oh dear Oh dear Mi tocca 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 Oh, hey there, kiddo. It's all right, I'm fine. See? No bites. No bites. So, do you still think they're just monsters? Now that you've seen them at peace... Any different? At all? I... I think you might be right... About there being something more to them. It was... kind of nice in there. Really? Never met someone who understood... It's... Thank you. I'm fine. Have you killed him Walker before? I have. Many. Have you ever killed a person? Many. Many. But that was a long time ago. I've killed someone before, too. AJ. AJ? You've killed someone? Yeah. I'm a murderer. But I'm trying to atone. Well... That's good. I guess. That's enough. What about the walkers? Are you going to help us save our friends? I thought I could. But I can't. But... So many walkers would die. All of the death this would cause. I'm sorry, Clementine. But I can't have more blood on my hands. James. The walker in the barn. The one with the different eyes. What was his name? His name? What are you... How about the woman in the back, near the wind chimes? What's her name? I... I don't know. Asim. Omar. Violet. Those are the names of my friends. The ones who were stolen by the raiders. I'll never forget that. I may be stubborn, but I'm not heartless. Those raiders are cruel. They force others to be the same. And if your friends are anything like you, I don't doubt they're worth saving. It'll take some time to guide them through the forest to the shore. Others will join the herd as they go. Tomorrow night, be ready. I can't undo this. I can't undo this. Guys... ... ... He's writing to the live title. Daisy, he's writing to the title. Daisy, he's writing to the title. Did you mean it? Is he right? Aaaaah... ... ... Well? Beh, non sappiamo sicuramente, magari è vero, la morte non sarebbe come abbiamo pensato, prima che il mondo si era così, magari qualcosa ci resta dopo di morire. Oh, sembra strano, ma se tu lo credi, io anche. Voi, AJ, torniamoci prima che sia troppo scuro. Quindi domani sapremo che fine faranno, esatto. Oggi voi vedrete questo capitolo e domani avrete subito il seguito, non siete contenti? Io lo aspetto da due mesi e mezzo, cazzo. Tutto a porno. Tutto a porno. Sembra proprio una parolaccia, no? Non è vero. No, è solo un'altra parola per partire. Certo. Lo so, sembra strano per partire, ma... La gente bisogna qualcosa per rinforzare le spiriti in questo momento. Questa potrebbe essere la ultima chance. Voglio fare un po' di te per tutti. Potrei prendere il tuo piccolo di calcio? Cosa posso fare? Dobbiamo prendere la sala musica. Potremmo fare qualcosa di coloro, per portare? Ok, sarò un'artista. Io ti metto la decorazione. La decorazione? Una decorazione per la partita. Ok, prenderò la calcio. Siamo a partire. Oh, mettiamo tutti gli hojuitini. Abbiamo sei hojuitini, cazzo. Disegna memoria Chi ha disegnato? È Kenny? Ha disegnato Kenny? No chi è? È lì? Non riesco a capire Comunque disegni di merda Niente non mi fa uscire Se cambio No ma sono i giocatori di quel drogato Di AJ Che ha scritto? Non si capisce una segua Si sono sempre i giocatori di AJ Tornato da questo Se faccio con fantasia Ah posso disegnare io? Ma è fighissimo Come funziona? Ah No non disegnerò il pene Anche se l'immagine sembra andare in quella direzione Facciamo un occhietto Facciamo Facciamo il naso Un altro occhietto Però questo occhietto avrà una benda E qui ci sono i capelli Qui ci sono i capelli Non dovevo insultarla per come disegna Cazzo adesso io faccio ancora più schifo Questa è la faccia Qui c'è l'altra parte della benda E qui c'è un cappello Che non ci sta Però c'è un cappello E la bocca Perché manca la bocca Ok Cos'è quella benda? No No Il mio disegno Bastarda Vabbè lascia disco broccolo Ancuno Appendo il ferro di cavallo Sei stata a cavallo Clem Non lo sapevo nemmeno io Dovrei saperla tutta La tua vita ormai Cavalli morbidi No 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 Tranquillo Anche se hanno una bocca che fa paura Quello te lo posso assicurare Oh tutti gli oggetti che avevo Cos'è che appende? Scuola Pride Go Ericsson Go where? No Come Chiarandole Go where? Eeeh Che altro abbiamo preso? Quanti genti abbiamo messo? Uno Due Tre Ne mancano altri tre E dove cazzo devo metterli? Devo mettere la zampa di coniglio Qua Just their feet Barba aperto E il sonaglio Rimmagino Ecco Mi piace la musica Anche se è luogo Ok Messo tutto Come è la scuola che viene? Posso vedere? No Non è ancora fatto Ma è PRETTY GOOD Ok Abbiamo messo tutta la roba Noi abbiamo tutto Perché nel primo, secondo, terzo capitolo Abbiamo trovato tutto Abbiamo tutti gli oggetti possibili La piantina è morta? No Quella è la pianta carnivora L'altra è morta Vabbè Due settimane durata Tizio pennello Guardo barba aperto Cos'è disegnato? no non pensare a quelle cose qualsiasi cosa siano no 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 pensare a cose brutto no oh 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 no 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 E' quello che ha chiesto in un partner. Voi? C'è brain, brawn, dashing good looks, great sense of humor, that sort of thing. Sure, I guess. What, uh, what would you say your thing is? That you look for in a guy? If you had to pick. Hmm, I think I prefer a good sense of humor. All right, I see you. You got me this time. If only I knew someone with one of those. I think that deserves a toast. A toast? Don't those usually come at the end? Hey, I warned you I'd make this quick. So, what do you say? To our last night alive. To making it past tomorrow. All right, fine. Maybe we live another day. To making it past tomorrow. So, I'll see you over there? Hey, Clem! Oh, I didn't expect it. Wow. Where did you find a beach ball? It was in some garbage behind one of the dorms. I had to blow it up. Cosa ha trovato Playboy? No, 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 no. Non era più bello. I should start heading back to the admin building. No, no. No, Lewis mi piace come personaggio. Secondo me, è la persona... più adatta per Clementine. Onestamente. Oh, la colonna sonora dell'uno. E adesso si piange. I love you, Clem. I love you back, kiddo. Okay. We better get ready to go. Sounds like they need us in the music room. Okay. 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 oh no la festa sembra che le cose si arriva insieme eh bisogna ancora riuscire la scuola la musica e qualcosa per scrivere sulle bannera se stiamo a morti dovremmo fare un pochino musica si gioca il piano all night no non 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 Oh, tu non hai mai visto un giocatore di giocatore? Si usiamo il bambino per un tipo di teme di partita? Non lo so, è pensato di essere più motivativamente. Mi rende l'occolta, non c'è tanto tempo come pensi. Mi pensavo di qualcosa di più elevato, come... Siamo arrivati a questo. Siamo arrivati al punto. Siamo arrivati. Sì, sicuramente siamo. Ok, abbiamo 10 che prendere il pennellino con il pennellino e prenderelo. Guarda, guarda questo. Quando ti prendi il pennellino, gioca musica. Non sarebbe una partenza senza qualche tipo di mood lighting. Sto andare avanti tra colori per anni fa. Il verde è calma, ma l'olio potrebbe essere bello. Corso, sicuramente corso. Faccio che succedere. Ho scusato l'olio del pennellino con il pennellino, per che si può giocare qualche ricord. Non molto di una selezione, ma... dovrebbe farlo. Prendi mi cosa vuoi ascoltare. Tu hai qualche classica? Si, credo. Ah, una mogra dopo il mio stesso cuore. Questo posto sembra bello. Ho fatto contento di Lucy senza volerlo. Oh, e Willy ha chiesto per te. Sto in office Marlin. Diceva che aveva una sorpresa per la partita, ma voleva mostrarlo a te prima. Sta creando la bomba? Cosa? For Mitch. Nice. Mitch would love this plan. I know, it's perfect. I can't think of a better memorial than to blow that boat out of the water. The tricky bit is timing the explosion so that it happens after you get off the boat. Trust me. This'll work. We'll be okay. Okay, everybody. Get ready to boogie. And, uh, Clem. I'm sorry for before. But how he treated Ten. I didn't mean to get so angry. I know it's not his fault. That's nice, Willy. But don't tell me. Tell Ten. True. Hai visto Gollum quanto è gasato, Arpino? Guarda Arnold, che balla. Con gli occhi chiusi, balla. Con gli occhi chiusi, balla. Wow. Questo sembra bello, Ruby. Non l'ho mai fatto senza te. Ma... Proprio in italiano l'hanno scritto. Li portiamoli a casa. Andate, mingle. I'll let you know when it's time. I guess I'll mingle? Oh no, devo socializzare? Yeah. Willy asked me to help with his special project. Well, that's good to hear. Is it ready? Good to go, Clem. Um... It'll work. Actually... I was thinking maybe we should name it. Something cool. I mean... I think it deserves a name. All the best bombs have names. Yeah, we absolutely have to name it. I thought you'd make fun of me, but... Hell yeah. Let's name his fucker. Willy Junior. Meraviglia di Mitch, dai. How about Mitch's masterpiece? Yeah. I like that. Mitch would have too. Okay. Then it's settled. I found them. Okay, Clementine. These here are our official Erikson psych evaluation and probationary reports. Okay. I don't get it. Well, these explain why all of us got sent to this school in the first place. And how we got stuck here for as long as we did. So, what's the game? I figured if we're all going on this crazy mission together, we might as well know who we really are. So, I'll read some of what the adults thought about us. And you have to guess which one of us fits the bill. I'll make sure it's someone you've actually met. This'll be the first one. While otherwise a remarkable student, Blank, continues to be plagued by fits of anger, uncontrollable cursing, and repeated physical altercations with the senior faculty. They're so funny. I know who it is, I really know who it is. It's just Ruby. You know what, Ruby? I hope you read your own files. Wow! How did you guess that? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Amr, my goodness. I mean, I can totally see it. The first time I met Ruby, she all was... That little mother fucker. Ahahahahha Ho detto che mi sono scoperto La nostra dolce ruby qui era un po' un sogno quando la prima è arrivata Uuuuh, la prima volta ha chiesto la professora di casa all'interno della casa con un forco di barbeque così grande No modo Non ti preoccuparti, c'era un po' tempo fa Voi sapere perché ho venuto qui? No La masturbazione Chissà perché però non avevo dubbi Niente Niente vuol dire, niente, niente Niente Tangiel ha detto Eh, comunque, magari dovremmo cambiare la musica? Oh, come tutti i tipi di musica, credo C'è un po' di loro No, no, lascia questo No, è tutto bene, le persone sembra di gustare questo È abbastanza per me Allora, continuiamo a continuare Pesante premio Oh, quante cazzo eravate prima? Oh, quante cazzo eravate? 34 Minchia! Stanno per morire altri tre se non ci sbrighiamo però, eh Occio che adesso ho qui rivelazioni scottanti, eh Cazzo 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 Sarei curioso di vederla con Violet festa scena, eh Sarei molto curioso Questo è per te, Mini Probabilmente la cantano e basta con Violet non la suonano, perché è Lui che la suona. No, no, non fare il corrucciato. Bello che IG aveva già disegnato la barca che esplodeva prima ancora di sapere che stavano facendo una bomba, mi sa che è un piccolo sbaglio di sceneggiatura. Non dire così, Arpino, non dire così, dai. Poi sono tutti muscoli quelli, che cazzo vuoi che mangiano questi, fanno la fame tutti i giorni. A parte il pitbull che si mangia gli zombie. E' il momento in cui piangiamo tutti? E' quel momento lì? Cazzo, è il momento in cui piangiamo tutti? No, di nuovo. Cazzo. Cazzo il treno? Cazzo il treno. Cazzo il treno. Cazzo. 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 Sto preoccupando, Lee Tengo molti persone che mi dependono E non so se ciò che sto facendo è certo Oh, so questo sentimento Voi sapere che stavo facendo tutto come si è passato, certo? Non posso farlo, ovviamente Con tu che così piccola Non credo che tu sia scoperto a qualcuno Hey! Non ti senti male Monsters hanno avuto il mondo E tu si è scoperto a prendere una chica di 8 anni Cosa ti dovessi fare? Credo che mi lascia un po' un po' Tu vuoi raccontare a me raccontare a quello che tu stai contro? Sono con un nuovo gruppo E ho stato in molti e si stanno sempre perdendo, ma mi piace davvero questo, è diverso, quasi sembra come casa è una cosa buona, è difficile essere solo qui ma siamo in probleme, alcune persone buone hanno capturato i miei amici, e tornare a tornare potrebbe non mi preoccupi, non mi preoccupi, cosa? Qualcun problema che hai, hai scoperto, hai scoperto, hai scoperto, hai scoperto Hai non lo sai io lo sai io lo sai che sei un attivatore, ma io lo sai che lo farò io credo davvero in questo tu è vero, ho bisogno di ascoltare che hai scoperto io ho scoperto che i miei amici, tutti i loro vivi è vero, immaginare come Violet si sente quando si trova che hai scoperto tu dovessi dareselojo l'ho spero Oh sweet pea, you know you always get like this before something big Remember how scared you were before you charged into that mess at McCarroll ranch? You survived that, didn't you? That was different, I was alone No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I guess the world got pretty hard since I left it. A kid growing up in it, he'd be hard too. You're in my shoes now, raising a kid. Think you got a handle on it? It can't be easy. Wanting to give him a childhood, but knowing what it takes to survive now. It was easier for me since the world was just changing. But you're living in one that's changed completely. You doing okay? E.J.'s amazingly. I've taught him to be strong and brave and capable. He'd be so proud. You mean more than I already am? Wow. Just look at you. Just look at you. This group you like. You better not live in a city. You know, I told you to avoid those. They don't. No one goes into the cities anymore. It's an old boarding school in the woods. Miles from anywhere. No adults at all. No adults? It works. I promise. Time to go, Clementine. You've got people that need you. Goodbye, Lee. Clem, wake up. It's time to go. We've got a long walk. We've got a long walk. We've got a long walk. Look, fino a questo momento il capitolo era veramente lento e vuoto. Fino a questo momento. Questa parte vale tutto. Questa parte vale tutto il capito. Il è qui. Buon il mio padre. Questa è James. È mio amore. È... ... così... ...è... ...è così... ...è... 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 ... Eh, sì, certo. Scusate. È bene. Oh, e scusate che ho cercato a te un'altra volta. Tu masque sembra così reale. Functionale e fassionale. Sì, prenderò due. Funny. È questo il ragazzo che Clem ha detto che si maravano? Eh, sì. Clementine, potrei parlare con te solo per un momento? C'è un'altra idea. Hold tight. Hey, uh, Ten? Come here, buddy. I gotta tell you something. The walkers. They'll be here in a little while. You can join them as they pass through the trees. The noise from the boat will draw them toward the water. And we can get on board and save our friends. Your friends are... different. Open-minded. Accepting. Like you. That's not usually how my first impressions go. Sorry, I feel like I'm rambling. It's just... being welcomed. It's strange. That one boy called me cool. Not sure anyone's ever said that to me. You know, they could be your friends, too. I know you didn't want to come into the school before, but now that you've met them... I haven't lived with people in a long time, but it does sound nice. Let me think about it. I wanted to show you something. I want to show you something. I should say... I want to show you something... I want to show you something. da un'occhiata in quel momento ho avuto molti morti e soffermi inizialmente ho diventato la causa di questo la fortuna era considerata un poissone e ho creduto in questo fiercemente così molto so che quando un altro bambino ha avuto simpatico per il nostro enemigo prima di un attacca ho slito il cuore non ho parlato con lui non ho considerato chi era cosa si senti sinceramente non ne ricordo il suo nome tutto lo che conosco è che qualcuno come lui solo ci scegliamo è stato abbastanza di un motivo per me questo è un po' difficile credere non sembrava nulla come te non ancora ma è stato non ho dubbato in mio mente che era certo dopo che ha morto ho continuato a ascoltare sui parole in mio cuore questi persone sono come noi solo su un po' differente non ho dubbato in mio caso dopo che ho cambiato non ho cambiato non ho cambiato quando AJ mi ha detto che ha matato qualcuno mi ha ricordato di loro di me di me di me Il ha detto che era vero, ma sembrava che era ripetere quello che aveva detto. La vita così, da una nuova agezza, è rompere qualcosa dentro di te. È rompere qualcosa dentro di Charlie. Ma proprio... Ma se AJ mati di nuovo, non potrà tornare a tornare. Non potrà essere la stessa ragazza che era. Ho visto che è fatto molto molte volte. Non mi farò lasciare AJ diventare un uccidio. Non voglio che lo cambiare, non così. Ho spero che puoi mantenere la promessa. Sono vicini. Purtroppo ci saranno enough di me che farà il cuore. James... Purtroppo ci saranno la promessa. È così che andrò. Purtroppo ci saranno. È a te. Grazie. Purtroppo ci saranno, AJ. Purtroppo ci saranno. Purtroppo ci saranno. Purtroppo ci saranno. Ci saranno. Ci saranno. La stagione. Ci saranno. Ci saranno. E io sono in charge di bomba. Cari il cuore. Ci saranno una porta sul basso con asci e cose. Lasciano in là. Sì, vediamo tutti dall'altra parte. Lo scenderemo. Tenne mi ha ignorato per tutto l'episodio, che cazzo? Oh. Se la vediamo, lo farò sapere. Grazie. Ciao contenitore! Quel purtroppo non è convincente. Eh, poi vedrete ragazzi. Non è vero, non è vero? Sì, è vero. La vita di altre persone è dipendendo a noi, dipendendo a me. Tu stai dipendendo a me, per... Cosa se qualcosa succede a te, Clem? Cosa se... cosa se non posso? Non lo so, non posso portare tutto il resto della mia vita. Allora... 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 Lo scenderemo, Lewis... Chiedo che mi sii... A me... Evi, a me secchiati a cercare... Allora... Questa... Niente, ci spiava. Poverino. Ragazzi, quella trece mi ricorda quello di te, che impesante. Che carino, un piccolo pezzo di intestino. Andine un altro. Hai visto che schiappone che gli ho tirato, volpino? No. Anche in faccia, ciccio. Ma va, ti butti un attimo in acqua, va via tutto. Ok, questa parte ricordo che laggava come poche altre cose al mondo, ragazzi. Quindi probabilmente la vedremo tutti a quattro fps. Se non l'hanno fixata, eh. Allora, andiamo. Non guardare, James. Stay behind the walkers. Use them as shields. Ok, c'è questo. no non mi uccidere quella ah ho sentito la puzza del sangue marcia io si vomitevole sangue pusta piaghe di decubito l'odore pungente ti avvolge ti soffoca la prima voglia è quella di vomitare se te non andate a vedere basta scattare però dai non riesco a lasciare la scuola, dovremmo scappare la parte della parte non l'hanno ancora fixata molto se a rischio niente niente uno scattino ogni tot seconda non 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 giù 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 follow me this way lol no 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 vaffanculo no il gioco sta morendo sta morendo cazzo se camminano sott'acqua stay close stay hidden cazzo se camminano cazzo se camminano nooo fare sta cosa con la roba che lagga nooo ecco ok meno modelli da animare oh no finalmente è finita la parte del lag mamma mia lei morirà non dire così wolfino smettila guai a te Devo controllare Non te era stupido quell'uomo Questo tizio che era fuori No, 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 no Grazie a tutti. Aspetta qui. La meraviglia di Mitch. 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 Ci ho riprovato dai. Mi fa così con sopracciglia. Comunque. Comunque. Comunque andava molto peggio se non avessimo aiutato Lewis. Lewis, al posto di Violet, perché al posto di Violet ci sarebbe Lewis adesso, lì nella prigione. E se noi non salvavamo Lewis andava molto molto peggio. I guess. You doing okay in there, AJ? Yeah, I'm all right. I'm looking for a way out. Yeah, me too. The doors don't look very well made. Maybe that's something we can work with. Lewis, are you all right? Me? Yeah, I'm fine. I'm just trying to figure out the best way to survive an explosion. How are you holding up? Lily. She scares the shit out of me, Clem. Earlier she came down to talk. Fuck. I don't think I've ever been that afraid. She's not messing around. We'll be home soon. Just hang in there. Omar, are you hurt? Let's just get out of here, okay? Quanta volta glielo devi chiedere se è ferito? Basta. Sta bene. Cazzo. I found your rabbit's foot back on the beach. Clearly it doesn't work. Hmm? Basta. Pagliaccetta. Violet, come on. Team Portuno. F*** off! Non mi insultare, cazzo. Che dovevo fare qui? Non mi ricordo, ragazzi. No, no. Inarca il sopracciglio. Cazzo, l'ha fatto? Ah, giusto. Ah, giusto. Ovvio che l'hanno preso. E' arrivato un coltellino. E' arrivato un coltellino. Non saperemo mai chi era. Dagli uno schiaffo pure a lei. No, Wolfino. Fottiti. No, no, non dite così, ragazzi. Oh no, c'è lì lì. Beh? C'è Abel? È morto, abbiamo matato, abbiamo messo una piazza nella sua mano. F***! Tu piccolo monstro! we showed him mercy he was terrified of turning so we stopped him from having to we gave him what he wanted I'm sure you did back up Minerva open the door yes ma'am normally the trouble you caused I'd shoot you and toss you overboard but I'm genuinely impressed first you organize these idiot kids into a fighting force and kill two of my most experienced soldiers then you sneak onto my boat under the cover of a herd I bring a prize like you back to the delta it might make this whole clusterfuck of a mission worth it someone like you so young with so much potential you're far too valuable to kill look if I'm the one you want let the others go this isn't a negotiation this is me telling you how things are going to be you know my father Larry was a great man and when I was a kid he had all kinds of rules the thing that bugged him most was waste if I ever left a light on after leaving a room he'd flip no matter how many times he ranted about the cost of electricity I could never remember to hit that switch so so one day he let our power get cut he liked illustrations to show that actions have consequences no more tv no more hair dryer no more ice cream this doesn't seem for me just a miserable family sitting in the dark well I guess asshole runs in the family is that the consequence that you're an asshole the consequence is I never left the lights on again my father had his faults but he showed me the effectiveness of teaching by example oh is that what this is? a lesson? I want to tell you a story let's call it the parable of the twins two girls were taken from their home and brought to a new place to live they had to leave their friends and family behind and that was hard at first they shed a lot of tears but the new place was a good place the people there grew corn and raised pigs and the twins ate well for the first time in years they had hot showers, clean clothes, beds they were given guns and trained to use them the people there were kind to these girls all that was asked in return was that they helped defend the group you see this place had a lot of enemies killers and thieves who wanted what they had they needed help fighting or they'd lose everything they built their crops, their power even their lives I wonder if that's how the twins would tell it one of them would one of the girls saw that this was a place worth fighting for and her tears dried but the other twin she could never forget her old home she rejected every gift every opportunity stirred up trouble every chance she got she convinced her sister to help her steal a rat and leave on the river of course they didn't get far what happened then, Minerva? I killed her I killed her I killed her what the fuck? is that true? your own sister? why would you do that? she was twisting my head with her lies and? i made a mistake i needed to show my loyalty to the place i call home like that or not you're one of my people now, Clem the question is which twin are you going to be? the loyal one? or the dead one? the one? the one? the one? the one? the one? the one? all right, Lily you made your point I'll do what you want no, don't say that, Clem look at what they did to Minnie just... don't hurt anyone else good I'm surprised to hear you bend so easily but as I said before this isn't a negotiation then you got the moral of the story hold on the mouth no, the insolent no lascialo stare they clearly didn't get the moral of the story we have to help them understand now don't hurt Lewis or I hurt you hey yo you better cool it or you won't get yourself hurt fuck 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 questa volta questa scelta la cambio ragazzi no 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 please come here don't make this hurt more than it has to questa la cambio ragazzi che schifo devo farvela vedere sta cosa ragazzi mi spiace come here come here come here my girl it's enough i said that's enough no i'm gonna kill the girl ok oh no Castino 18 mesi Castino Mamma mia Addio Clementina No non ancora Castino A domani 18 mesi Castino Sono due gravidanze Come lo chiamiamo il secondo Castino Dai Il nome del secondo lo decidi tu Su Beh Big talk for a little guy No I can do it I killed Marlin He wasn't a monster but you are Bang So you killed Marlin I bet you'd make a great soldier Leave him alone this is between us Clem seems to care a lot about you Come on Let's go have a chat Just us Fucking touch him Clem No No please Clem and thine AJ Keep an eye on her Minerva Lily Don't Get this thing moving I wanna be far away from here Fast I'll start up the boy I'll start up the boy Don't 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 you dare look at me like that This is the only way we survive Are you serious right now? After everything that she's done you're just going to help her? Fuck you Puttana Eh? Chi è stato? Chi l'ha detto? Smettetela ragazzi Ha ucciso Sophie L'ha fatto Mamma mia Violet che due coglioni Levati dai coglioni L'ammazzo Non mi interessa E ammazzo anche te Una nuova cicatrice Cazzo No No Stop Minerva I'm warning you What the hell is going on down here? Pfff Puttana No 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 Wait That's not what I... Dorian Nooo Sii Fanculo Fanculo E ridammi il mio coltello Cazzo I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry No no Lewis va bene così Anche con te eh Sta maledetta lesbicona guardala E allora resta qui Mi sa che Lewis non aveva mai ucciso nessuno prima d'ora Che stai là di più Beh Mamma mia Cioè Quella che ha creato più problemi del gruppo di Lily è stata l'unica che doveva volerci bene Cazzo E non si muove Non si sta muovendo ragazzi Funziona solo il tasto di pausa Non si muove Si è buggato Si è buggato Anche ora lo giochi domani il finale alle 9 puntuale Castino 9 21 00 Facciamo anche un po' di pre-live probabilmente Ovviamente avvio la live verso le 8 e 40 Mettiamo 20 minuti di tempo Così Intanto trovate tutti la live E chi entra entra Chi non gliene fotte un cazzo Non venga Però adesso vogliamo finire questo Perché altrimenti non si può fare il quarto episodio Devi darmi il tasto però stavolta E vedi che adesso è uscito il tasto lì in alto a sinistra Prima non c'era Comunque l'avevo premuto di se non esce il tutorial non si muove No no Si stanno pagando le conversazioni Non si muove Tien Tien F*** Tennessee Si è perdita? Ma'am Non era solo Ho qualcosa di più di mostro Cosa No lui no Qui Ah, conosci i sussurratori, Gigi? Gigi, mamma che risposta, Gigi. Gigi, tennissi. o altro Fine go ahead then do it save your friend That's what you came here to do isn't it? Oh I see you came here to cry Looks like you're not a soldier. Please don't I Ah yeah Picchiala AJ, picchiala Che botta che gli ha tirato Dai Cosa? Tu tai la storia Ero 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 Oh! Easy, wait! I give up! I will give up! Put down the gun! I'll let everyone leave! My crew and I will leave! We won't bother you anymore! AJ! She's not a threat! Lower the gun! You weren't down there! You didn't see what she did! She tried to cut us all up! You don't have to do this, please! It's a trick! Don't you fucking dare, AJ! Just give me the gun! You can't let her hurt anyone else! I don't want to die! Lower the gun, AJ! Okay. James! James! No! 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 Sì, la bomba! AJ! Bello che è James che ti fa promettere Di non far più uccidere nessuno a AJ E alla fine è lui a rimetterci Proprio perché AJ non spara Che cazzo ne sapete voi? Dietro il personaggio di Lily c'è una costruzione gigantesca ragazzi Non è un personaggio che c'è in due episodi Era nel primo episodio C'è un po' di rapporto affettivo nei suoi confronti Anche se è diventato un cazzo di mostro In più c'era la promessa fatta a James Per quello che ho scelto ad allora E ho scelto anche adesso di non spararle È così ragazzi, è così Perché è il mostro? Perché rapisce i bambini per trasformarli in soldati Comunque il 91% ha ucciso Abe Il 9% lo lascia trasformare Il 91% non uccide i vaganti La maggioranza dà lo stesso nome alla bomba di Mitch Cioè la bomba di Willy L'82% permette a Jay di attaccare Dolly L'altra volta avevo scelto di non farlo attaccare Però Ho trovato che la scena sia più bella così Quindi ho preferito fare questa stavolta Tanto è una scelta di poco conto questa qui E la maggioranza comunque non spara a Lily ragazzi Sì ma lei non era una psicopatica prima Lei ha salvato la vita Clementa in più volte nella prima stagione Solo che tu Volfino non l'hai mai vista la cazzo di prima stagione Quindi non sai un cazzo sul personaggio di Lily Quindi è inutile che stiamo qui a parlare di Lily Se il personaggio non lo conosci Capisci? Capisci? Sono semplici cose Questo è il riassunto AJ è disperso AJ ha provato emozioni contrastanti quando ha ucciso Avel Per evitare che si trasformasse AJ era battuto quando hai messo in dubbio La possibilità di restare insieme a lui Anche come vagante Manca vagante AJ ci è sentito inerme quando ha risparmiato Lily Permettendole di uccidere James Minerva è dispersa Minerva era sconvolta all'idea che Marlon abbia ucciso Brody Minerva ha ritenuto le sue azioni imperdonabili nonostante il tuo invito a tornare alla scuola Minerva ha avvertito una stretta al cuore alla notizia del perdono di te Sono tutti dispersi No Violet è puttana Violet ha riso di te quando non hai voluto spiegare il motivo per cui non l'hai salata No ecco sbagliato Cioè non mi ha dato il tempo di selezionare Ma tanto non cambiava nulla Violet ha iniziato a disprezzarti dopo la sua cattura Si fotte Lily è dispersa Lily ha colto con sorpresa la tua proposta di accordo Lily era compiaciuta quando ha impedito al DJ di spararla Tenne disperso Tenne è stato grato quando hai preso le sue difese contro Willy Tenne è stato grato quando hai promesso di comunicare il suo perdono a Minerva E comunque ragazzi tra tutto quanto vorrei vedere di più cosa succede con Lily Mi dispiace che James sia morto È un personaggio che mi piaceva James Però sono curioso di vedere il ruolo che avrà Lily nell'episodio finale Se l'avessimo uccisa prima adesso non... Cioè domani non vedremo cos'altro combina, capite? È un personaggio che voglio vedere fino in fondo Tenne è disperso Tenne ti è stato grato quando hai preso le sue difese contro Willy Tenne è stato grato quando hai promesso di comunicare il suo perdono a Minerva James è morto James ti è stato grato quando hai rispettato le sue convinzioni risparmiando i vaganti James era euforico quando hai riconosciuto un barlume di umanità nei vaganti Lewis è disperso Lewis era al settimo cielo quando hai accettato il suo invito a un appuntamento Lewis è rimasto colpito dal tuo interesse per i motivi che lo hanno portato all'Herrickson Lewis ha provato un senso di pace quando gli hai mostrato la tua vicinanza dopo il racconto del suo arrivo all'Herrickson Lewis è stato grato quando hai permesso ad AJ di fermare Dorian prima che gli tagliasse un dito gli tagliava un dito se AJ non la fermava quindi per un pianista ragazzi perdere un dito penso sia abbastanza grave quindi l'ho fatto per lui l'ho fatto per Lewis Abel è morto e Abel era sollevato quando gli hai promesso pietà Gli altri sono inorriditi Rosie è preoccupata per tutti Willy era entusiasta quando hai accettato di dare un nome alla bomba Ruby si è sentita triste quando hai detto che meritava di finire alla Errickson Ma non l'ho detto Ma non l'ho mai detto Ma quando mai c'è stata questa scelta scusate Fissà più o meno la durata del prossimo episodio La solita Due ore e mezza Castino Ma è finito due ore e mezza Sono due ore e mezza adesso con questo Sono durati tutti più o meno questo periodo Tanto Lily morirà lo stesso Probabilmente anche James morirà lo stesso Dani che cazzo ne sai? Finché il capitolo non è uscito non lo possiamo sapere Tu spara a Lily e rovinati il finale Che cazzo ti devo dire? Poi magari sarà una merda senza Lily 6 di 6 Magari rinsavisce Chi lo sa? Tanto ormai la sua cazzo di nave e il suo cazzo di gruppo è morto C'ha una gamba fottuta Chi lo sa ragazzi? Lo scopriremo domani Ok Ecco un morto che cammina Ragazzi Chiudiamo qui Ok